Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pasticcio di zucca, patate e salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono salsiccia, zucca, patate, scamorza, parmigiano grattugiato, olio, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua che deve essere calda, il sale, posizionare il cestello con le patate, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con la zucca, chiudere con il coperchio e cuocere per 20 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. trasferire la zucca e le patate in una pirofila da forno ben imburrata. Mettere il sale, pepe, il pepe, mettere la salsiccia che abbiamo tagliato a pezzetti, il formaggio, parmigiano grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. Gli ultimi 10 minuti cuocere a grille per gratinare. Il pasticcio è pronto, lasciare intiepidire e servire. Pasticcio di zucca, patate e salsiccia. Grazie e alla prossima ricetta. Pasticcio di zucca.